Ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video Io ringrazio AX2Games per avermi dato una key di Beach Invasion 1945 Siamo qui sulle coste del Pacifico per fare il panico su queste isolettine per ammazzare i soldati americani Noi saremmo i giapponesi e dovremmo difendere le nostre spiagge Io portai già un Let's Explore molto simile che è Beach Invasion 1944 Chi mi hanno sempre offerto una key e io sono veramente felice che mi abbiano dato anche la key di quest'altro gioco E c'è anche un italiano Attenzione Nuovo gioco Facciamo Ah ecco una cosa importante C'è una modernità Coppo ragazzi Quindi non ci sono scuse Se vi piace questo tipo di giochi Prendete Voi e un vostro amico Ci giocate assieme e farete il panico Allora facciamo un progressivo Ah possiamo scegliere Penne New Una grande battaglia di Penne New Su cui c'è anche Call of Duty World at War Che è una porta Amasca Interessante Iwo Jima Vabbè la grande battaglia di Iwo Jima Che mi ricordo ancora da Battlefield 1942 Bellissimo Le filippine E allora facciamo così Proviamo Facciamo un 5 ondate di Iwo Jima E poi andiamo Con gli americani Giusto per capire un po' Allora siamo con una Type 92 Per il momento abbiamo La Type 92 Due Type 92 Perdonate Con i tasti numerici Potete spostarvi Abbiamo ammazzato 15 soldati Spostiamoci un attimo da qua Ok Eccoli Questa mediatrice Sotto attacco Spostiamoci Ok 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 E come bici invece 1944 In sostanza Possiamo sbloccare un'arma E lo facciamo Io sbloccherei Un gargarmatino Posso sbloccare No Perché Non c'ho i punti Ho detto male Allora facciamo un'altra ondata Quando è ben lì Nostro gargarmatino Questo poi lo sbloccheremo Più avanti E qui i soldati Arrivano Prepariamoci Ok Abbiamo Uno sblocamento Che direi di usare Ok Ok Allora Dove sono i nostri nemici Devo andare ancora Probabilmente Attenzione Questa è una jeep Era una jeep Weenis Attenzione Ci hanno compito Ok Allora Sblocchiamo un'ante arma E sblocchiamo Il gargarmato Così lo proviamo E poi voglio vedere Subito Subito Non voglio manco Perdere tempo Ah Poi con la rotella del mouse Si può cambiare Ok Non lo sapevo Chi sono questi Scusa Scusa Voi chi siete Sono giapponesi questi Sì Mi sa che sono giapponesi questi Quindi al primo Quindi al primo Ho ucciso un giapponese Mi sa di sì Perché Sì perché C'hanno in type Sì 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 Ah vabbè Vengo Venga mira Vengo Compito e affondato Dai su Dai su Sì Sì Dai sugli ultimi stronzi Bene 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 Va bene Ottimo Allora Allora con questa Andata completata Io voglio uscire Perché voglio vedere Sto fatto degli americani Che non Non mi aspettavo Che ci fossero Se vuoi si fa Sandbox Filippine Voglio capire Vediamo Sono curioso Sono curioso Perché Io non sapevo Che avessero raggiunto Gli americani Ah sì sì Ah Ah Ok Quindi C'è anche Dalla parte Degli americani Questo sta in Bello Bello Stai comodo Bello Che cazzo No Vabbè Dalla nave Boom Dove vado a batterlo Bonca miseria Fantastico Mamadona Oh Eh Ti sarebbe piaciuto Munnez Quanto hai carri agmati Sì Vabbè C'ho una mira Io Che È incredibile Ma Chi sono Ieri Panca Ah no È nostro Quella mare Vabbè Quanto hai capito Dove Sostituci Ragazzi Ragazzi È bellissimo È bellissimo Da solo Guarda Quanto a quello In piedi Mi piace Mi piace Mi piace Un sacco Questo Ho giocato Con qualcuno È spettacolare Da solo Vabbè Sì Ho capito Ma Così È tutta Nata storica Ci sono anche Gli americani Io questo Non lo sapevo Io pensavo Ci fossero Solo Giapponesi Guarda Quanti nemici Vuoi mettere Sì È Fantastico Fantastico Amici Il gameplay È uguale A Bici Invece 1944 Ma avendo i co-op È molto più divertente E se ci gioco un amico Vi diventerete sicuramente Ci sono Iwo Jima Filippine TNU E Alaska Per Il panico totale Ragazzi Io credo che vanga In prezzo Voi se lo trovate scondato Meglio ancora Per voi Perché Giocare questo tipo di gioco Assieme a qualcuno È davvero figo Davvero bello Amici Io Il video finisce qua Ringrazio Kim Inger Ringrazio AX2 Games Per avermi dato una key Per avermi fatto provare Questo fantastico gioco Convinceremo Il mio amico A prenderso Così ci giochiamo assieme Sempre se ci riesco E noi ci vediamo Su un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi